Indagini a tutto campo sulle esplosioni di lunedì sera a Boston. Andremo fino alla fine della terra per trovare i colpevoli, ha detto il capo dell'FBI, Richard DeLosier, che ha chiesto ogni aiuto possibile alla popolazione, video, foto, informazioni che possano aiutare le indagini. È importante chiarire che solo due ordigni sono stati ritrovati ieri. Tutti gli altri pacchi presenti nell'area degli scoppi sono stati esaminati, ma non sono state trovate bombe inesplose. La conferenza stampa tenuta alla Westin Copley Plaza non ha fornito indicazioni sugli sviluppi delle indagini. Al momento non ci sono arresti né sospetti chiaramente identificati. Boston è militarizzata, ma il capo della polizia Ed Davis ha auspicato di riuscire a restituire al più presto la città alla della normalità. Allora